Un 2022 che si apre, come poteva essere diversamente, nello stesso clima di incertezza e di vaga apprezzione per i tempi che verranno rispetto all'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. L'emergenza sanitaria che sta toccando un nuovo picco, la crisi economica che continua a mordere, l'aumento del costo della vita sono motivo di preoccupazione per tanti. Per quanti hanno un punto fermo nella fede, ma non solo per loro, le parole di sprone e incoraggiamento di Monsignor Camillo Cibotti, il Vescovo della Diocesi di Sernia Venafro, richiama i valori del coraggio e della prudenza, quale bagaglio indispensabile lungo il cammino della vita in questi frangenti particolarmente accidentato. Il coraggio è quanto è sostenuto e animato dalla nostra fede e ho fatto riferimento proprio alla Madre di Dio, questa mamma che ci prende per mano e che ci dà speranza e fiducia di affrontare il futuro. E quindi, certi di questa presenza, dobbiamo essere coraggiosi e forti nell'intraprendere questo nuovo anno, sicuri che possiamo cambiare, diventare migliori, ma possiamo anche migliorare il mondo che ci circonda. La prudenza e anche tutto ciò che comporta questo tempo particolare ci porta anche a richiamare l'accortezza in tutti quelli che sono gesti e situazioni di prudenza. Avere anche una certa paura del Covid, non essere spavaldi perché, come stiamo ascoltando, specialmente i centri di rianimazione sono pieni di Novax. Probabilmente alcune convinzioni possono anche essere superate anche da questo che sembrava non dovesse colpire nessuno, ma che sta anche interessando bambini. E quindi, da parte nostra, è proprio un dovere non solo civile, ma anche morale avere questa attenzione, questa premura nel salvaguardare la nostra salute e quella dei fratelli. Grazie a tutti.